Salve a tutti, mi presento, sono Santoro Giuseppe e faccio parte dello staff della macelleria e rosticceria La Contarina. Domenica mattina, 11 giugno, dalle 9 alle 13, faremo una degustazione e presentazione dei nostri prodotti pensati per il catering. Per farvi venire l'alcolino in bocca vi elenco alcune specialità, come ad esempio i bicchierini finger food con una vellutata di ceci e con una pastella di baccalà con peperoni cruschi, quindi una specialità del nostro territorio. Faremo dei voulevo, quindi tipici dolci francesi con una crema di tonno, poi faremo il cannolo siciliano però in chiave rivisitata dove metteremo una ricotta emulsionata con una crema ai pistacchi e noci e poi faremo una piccola curiosità e anche sfiziosità che sarebbe un pane con una creme fraiche con erba cipollina e una goccinella sopra. Un saluto e a domenica, vi aspettiamo numerosi dallo staff La Contadina. La Contadina La Contadina